Si registrano continuamente disordini a Pian del Lago dinanzi al centro d'accoglienza. Qual è la posizione dell'Arci? L'Arci è estremamente preoccupata perché da anni noi diciamo che questo sistema di accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo non funziona. Concentrare 700, 800, 1000 persone in uno stesso posto rischia di creare gravi tensioni ed è quello che sta succedendo a Pian del Lago, quello che succede continuamente a Mineo, quello che succede in tutti questi tipi di strutture di accoglienza. Le tensioni sono anche alimentate dagli spaventosi ritardi che la burocrazia italiana accumula per cui c'è gente che è là davanti che da un anno aspetta di entrare dentro il centro, aspetta di essere sentita dalla commissione territoriale. È chiaro che le tensioni crescono ed è molto molto complicato gestire una struttura da mille posti. Sarebbe preferibile coinvolgere tutti gli enti locali d'Italia e una gestione sul modello del sistema di accoglienza per i rifugiati e richiedenti asilo o lo SPRAR che è anche gestito dagli enti locali. Avete delle proposte per l'immediato? La prima proposta immediata è che frattando bisogna risolvere il problema davanti a Pian del Lago. C'è troppa gente che dorme fuori. Noi abbiamo chiesto più volte che si facesse una struttura, ponte di accoglienza, un posto dove questa gente va a dormire solo la notte, non devono mangiare, non devono stare, però non stanno fuori. La seconda cosa è riaprire immediatamente la commissione territoriale per il riconoscimento dello status dei rifugiati a Caltanissette in modo che si possano rapidamente smaltire le pratiche. La terza è disseminare nel territorio queste persone, cioè attivare più piccoli progetti e non un unico grande progetto che costa tantissimo in termini di sicurezza, di gestione delle strutture. C'è quello che succede a Pian del Lago, noi lo facciamo senza nessuna attenzione con un costo che è almeno due volte più piccolo. A Pian del Lago la gente costa senza costi di sicurezza circa 50 euro al giorno. Il progetto stralare costa circa 35 euro al giorno. Parliamo di cifre, siete in possesso di dati sulle presenze di queste persone? Le cifre esatte non si sa perché per l'altro siamo in una condizione di emergente e quindi non sappiamo il Ministero cosa sta facendo in questo momento. Sappiamo solo che il sistema di accoglienza complessivo, lo Sprar, è stato allargato a circa 6.000 posti. Caltanissette in questo momento nel sistema Sprar ci stanno 20 persone, ma è un piccolo numero, vengono controllati bene, vengono gestiti bene dagli operatori e quindi non creano tensioni. Il problema è che in questo momento c'è una pressione che non è straordinaria rispetto agli anni passati. Ad oggi ci stiamo all'incirca a 15.000 sbarchi in tutta Italia, penso che arriveremo a 20.000, nel 2011 furono 50.000, quindi non sono numeri clamorosi. Il problema è che dopo 10-15 anni di questa vicenda ancora in Italia si lavora con l'emergenza, perché l'emergenza fa sì che si dissimili risorse straordinarie. Per avere un numero, l'emergenza Nord Africa 2011 è costata 1 miliardo e 200 milioni di euro, cioè che è una cifra scandalosa. Il solo villaggio di Mineo costa 8 milioni di euro l'anno di solo affitto. La Costa Crociere ha affittato allo Stato italiano 4 navi per 8 mesi, quelle navi hanno fatto 6 viaggi, costavano ogni nave 20.000 euro al giorno. Fate un po' i voi conti. Che tipo di rapporto c'è tra il cittadino nisseno e il cittadino extracomunitario in questo momento? Dipende dalle situazioni. Io credo che complessivamente i nisseni comprendano bene quello che sta succedendo. C'è forse troppa poca conoscenza di chi sta a Piantellago, perché chi sta a Piantellago non è un semplice emigrante, ma è una persona che fugge da una condizione di guerra. In questo momento arrivano siriani. Sappiamo tutti quello che sta succedendo in Siria. I nisseni probabilmente avrebbero bisogno di essere informati meglio, per capire meglio il fenomeno, e avrebbero soprattutto bisogno di essere rassicurati rispetto a una condizione di allarme sanitario che non esiste, rassicurati rispetto a alcuni fenomeni. E ci vorrebbe però quello sì un controllo maggiore del territorio. Quello sì, perché il fenomeno della prostituzione, per esempio, in via Cavour, in via Rochester, non è connesso a Piantellago. Non è gente che vive a Piantellago. E' un'altra questione, altrettanto grave e drammatica, perché le donne che si prostituiscono spesso sono vittime di tratta, sono schiave, però non è Piantellago. I nisseni, perché nessuno gliel'ha detto, mettono insieme Piantellago con la prostituzione. Non c'entra nulla, sono altre cose.